Buongiorno, Polizia Giudiziaria. Ha denunciato per stupro tuo figlio. È impossibile, non ha alcun senso. C'è un'indagine in corso. Adesso è sotto controllo, da un giorno all'altro potrebbe finire in prigione. Nostro figlio, con quella, sicuramente è una pazza. E se l'avesse davvero fatto? Ti rendi conto di quello che dici? Un uomo può mentire perché ha paura? O perché la realtà delle sue azioni gli è insopportabile? Non ho fatto niente, questo è un incubo. L'ha seguito di sua volontà? Mi ha detto che aveva un coltello. E l'ha minacciata con quel coltello? Sono soltanto delle domande, signorina. Lei dice che lui ha detto poi abbassati le mutandine, vero? Se il rapporto sessuale era consenziente. Lo trova bello? Signorina, le chiedo. Ce l'ha condiviso? Che gli eccellenzi di calenza? Qui non c'è mai un problema. Non posso lasciar te. Ma due per cento. Tutta una strada. Una medesima. La sua vita sarà rovinata! La vita di chi, Claire? La vita di chi? Ripetilo! La vita di chi? La vita di chi?